Nat, devo ammetterlo. Non mi stupisce che tu non abbia mai ceduto. Ho avuto le mie crisi. Ho quasi perso la strada come gli altri. Beh, ora sei qui. E mi sento meglio sapendo che ci coprirai le spalle. Sai, ho sempre pensato che il tuo costume fosse un po' esagerato, ma devo ammettere che lo fai funzionare. Grazie, Nat. Grazie a tutti. Che salvataggio, eh? Ora che sei tornato in azione, il caro Giorgi starà probabilmente dando di matto. Sarà imprevedibile. Dobbiamo essere pronti a tutto. Come avete fatto a riunirvi dopo tutti questi anni? Sinceramente, è merito di Kamala. Ha creduto in noi anche quando avevamo perso fiducia. Deve essere incredibile. Tu e Bruce potete essere molto testardi. Puoi, anche se non c'è. E non c'è. Non c'è. Non c'è chezza. Beh, pulito e rilassante come sempre Bruce, come ti è andato in questi anni? Ho avuto un po' di alti e bassi Kamala mi ha aiutato a rimettermi in carreggiata Non vedo l'ora di conoscerla meglio È una brava ragazza, Cap Una delle migliori, forse Bentornato, Cap Lieto di essere qui, Bruce È bello essere di nuovo a casa Possiamo farcela, Captain Grazie a tutti Grazie a tutti Potrei chiedere a Thor di aiutarmi ad arredarla Pronta a combattere, signore Oh, ciao Captain America Wow, ok Non pensavo che avrei mai lavorato con te Cosa posso dire? Sono solo uno qualunque di Brooklyn Ah, certo Un qualunque Captain America Volevo ringraziarti Per cosa? Beh, mi pare di capire che tu sia il motivo per cui gli Avengers sono tornati E per cui mi trovo qui Quindi Volevo ringraziarti per tutto questo Certo Voglio dire Felice di Aver riunito gli Avengers Quando vuoi Allora Sei pronta? Sì Voglio dire Credo Questa incertezza non svanisce mai Devi solo fidarti di te stessa E sapere che ti copriremo le spalle Quando ne avrai bisogno Grazie Perfetto 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 Salute, coraggioso avventuriero. Sarà bello combattere nuovamente al tuo fianco, Capitan. La cosa è reciproca, amico. Gli Avengers sono stati assenti troppo a lungo. Pensavo che sarebbe tornato. Sta benissimo, Capitan. È bello indossare di nuovo l'uniforme. Qui è dove Monica ha rivelato la mia posizione. Qual è il suo gioco? Grazie. 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 Buon appetito! Grazie a tutti.